Buonasera, per tutto il coordinamento provinciale di Dorizia siamo qui riuniti per discutere sull'esposto epocale in cui aderiamo, tutto il coordinamento aderisce e invitiamo tutti quanti ad aderire a questa richiesta di verità giusta. Passo la parola a noi ci siamo. Noi ci siamo, per esempio. Noi ci siamo, noi ci siamo. E ci sono anch'io e volevo dire che non solo le persone aderenti al CLEM, al COEM possono fare questo esposto ma può farlo chiunque, amici simpatizzanti perché riteniamo che sia veramente una cosa importante prendere posizione. È un momento molto importante, questo anche di comunione e condivisione su questo tema così gravoso e che comunque la verità non bisogna trattenerla, bisogna esprimerla e non bisogna stare in silenzio perché nello stare in silenzio si è anche complici di un sistema che è malsano. quindi bisogna dire, bisogna portare avanti il discorso della cosa giusta da fare e la cosa giusta da fare è sottoscrivere in pieno questo evento. Allora, invitiamo tutti gli RC, i capitani e i PO a interpellarci pure se avete dei dubbi che sono leciti, abbiamo avuto anche noi dei dubbi o quant'altro telefonateci pure o scriveteci e vi daremo risposta.